Forse questa è la prima partita della sua gestione a parte quella del sordio contro il Novara in cui raccogliamo qualcosa in più rispetto a quanto prodotto sul campo oppure la vittoria è legittima? È stata una partita molto difficile, sofferta non credo col predominio di una squadra o dell'altra quindi dove l'episodio tante volte fa differenza noi ci abbiamo messo tanta attenzione, tanto spirito e sacrificio contro una squadra che dal punto di vista del paleggio era più forte della categoria e quindi logico che non era facile e sono stati bravi i ragazzi a soffrire e a avere sempre l'atteggiamento giusto in fase difensiva però anche a crederci fino alla fine perché poi dopo nella partita qualche situazione importante l'abbiamo ugualmente anche creata meno di altre volte sicuramente però credo che sia stata una partita molto equilibrata Credo che avesse impostato un po' la partita una partita abbastanza di attesa tutto sommato perché si sapeva che il Pescara sarebbe venuto a qua in poco il sangue agli occhi e il Pescara ha cercato probabilmente di fare di più la partita però la Ternana io l'ho definita anche abbastanza cinica perché ci sono queste partite in cui magari si crea di meno però l'attimo giusto, il momento giusto è si colpisce l'avversario è stato così? Sì, è stato così anche se poi appunto tante volte uno tira dieci volte venti volte non segna e oggi tiri tre volte e fai gol però era importante il tipo di partita e l'approccio che c'era anche perché oggi faceva secondo me il primo caldo e quindi noi avevamo anche un giorno in meno di recupero rispetto a loro tutte piccole cose che alla fine secondo me potevano costare qualcosina quindi è importante aver fatto punti poi l'equilibrio l'hai sempre mantenuto hai concesso un trittico nel primo tempo e una pallina attiva nel secondo tempo adesso se ricordo bene non è che anche loro hanno fatto chissà che cosa noi abbiamo un'occasione con Fabio poco di più però insomma credo che poi le partite a volte girano in una maniera a volte in altre era importante far punti e credo che l'atteggiamento della squadra sia stato quello giusto Il gol tra l'altro è figlio di un'idea di azione perché il cross di Furlan per il taglio di Belloni taglio che noi abbiamo visto all'inizio della stagione e poi il Bussellato che arriva a Rimorchio C'era già la sua deviazione mi hanno detto ai ragazzi che c'era già forse anche la mano però è stata una buona azione non siamo riusciti magari a fare altri tipi di azioni che ultimamente facevamo eravamo un pochino meno brillanti però va bene così perché a dire di tutto quanto in questo momento della stagione bisogna fare punti e basta Senta, poco prima c'era stato quel tiro sull'esterno della rete di Ceravolo quindi possiamo dire che l'ultima mezz'ora di gara nell'ambito di una partita lineare giocata con grande accortezza dalla sua squadra la mezz'ora finale sia stata comunque la migliore almeno in avanti Sì, abbiamo avuto questa mezza occasione con Fabio anche qualcosa in più e poi l'azione del gol dove abbiamo avuto due o tre tiri come un pochino loro al primo tempo perché ha avuto il tiro di... vabbè, c'è stata una doppia azione però insomma a dire di questo io penso che sia importante lo spirito perché l'atteggiamento è stato di una squadra che ha sofferto che in mezzo spesso era in inferiorità però lo sapevamo e insomma l'importante era appunto portare a casa i punti e crederci fino alla fine poi potevano venire fuori un punto sono venuti fuori tre punti meglio ancora però l'importante è muovere la classifica Un modo migliore non c'era per festeggiare la 200esima panchina da professionista? Non si può neanche quindi è tutto relativo anche a quello perché alla fine insomma uno si concentra sul presente e il presente ci richiede tantissima attenzione e non dobbiamo mollare di una virgola perché già sabato adesso ci godiamo a Pasqua e colgo l'occasione per fare appunto gli auguri a tutti quanti di buona Pasqua e poi dopo da martedì riprendiamo a preparare una sfida con una squadra che sta facendo un campionato eccezionale e quindi ci richiede molta attenzione Alto a destra all'inizio poi dopo il ventesimo a centrocampo quindi con un cambio di modulo poi di nuovo in avvio di ripresa largo sulla destra una prestazione non brillantissima quella dell'ex Bresciano però insomma sul piano tattico è l'elemento che le consente di cambiare pelle in corsa Ma non è che non è stata brillante secondo me ha fatto una buona prestazione e gli ho chiesto più interpretazioni della gara quindi sono contento come sono contento anche di come è entrato Belloni che è entrato bene e anche gli altri quindi non è credo che sia una prestazione dove tutti sono stati bravi a soffrire e a sacrificarsi qualcosa rispetto ad altre volte è avuto meno bene però alla fine vabbè insomma vabbè è meglio così tra vivete chi se ne frega visto che alla fine è entrato anche Troianiello come sta il ragazzo e non so se Ceravolo avesse chiesto lui la sostituzione perché forse aveva qualche problemino no vabbè lui arriva sempre che spende molto quindi era stanchissimo e insomma va bene così Troianiello ha le stesse caratteristiche un po' di Fabio che ne ripartenze ha questa gamba che spacca insomma è entrato molto emozionato con tantissima voglia però un po' emozionato però sono contento perché voglio che si sienta importante che anche lui ci può dare siccome una grande mano da qua alla fine E una notazione positiva non aver subito gol per la seconda gara consecutiva contro un Pescara che al di là dell'assenza aveva comunque qualità davanti Qualità è la squadra che forse crea più occasioni di tutti quindi bisognava essere bravi e credo che dietro hanno fatto una gara molto attenta Grazie, auguri